In occasione della festa patronale di Arona di mercoledì 13 marzo, le attività ambulatoriali svolte nel Presidio Sanitario Territoriale, via San Carlo, 11, e le attività svolte nella Palazzina, ex Nicotera, piazza De Filippi, 2, saranno sospese. Le attività riprenderanno regolazione. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno. Autosalone tedeschi. Concessionaria Suzuki per il VCO. A piedi mulera.